Premio della bontà a Rustigazzo nel comune di Lugagnano. Verrà consegnato domani a cinque benemeriti. Festa dei buoni alle 15 nella parrocchiale. I canti, la musica, le parole degli ospiti. Storie che faranno riaffiorare l'impegno di servizio, la costanza, fantasia e cuore dei protagonisti, esempi di bontà, di carità cristiana, di solidarietà. Un premio serio, non la solita stravagante farsa dove si barattano persone e cose. Tra i premiati il grande giornalista Tony Capuozzo. Il premio Bontà di Rustigazzo restituisse ogni anno speranza e non finisse, non si esaurisse in un incontro festoso. Rilancia ogni anno un messaggio. Se incontri un vecchio camminare con passo lento, fermati, non andare oltre. Se incontri un giovane trascinarsi sul suo carrozzino, fermati. Se incontri un giovane sotto gli effetti della droga, fermati. Se incontri un uomo dalla pelle diversa dalla tua, che è lontano dalla sua terra, non andare oltre.